Ecco questo è già finito, è felice, è felicissimo, notare dal gileto si vuole molto felice infatti, sono molto felice, i pantaloni sono felicissimi, i quadratoni infatti ispirano a voi, madonna, io li voglio, ispirano a voi, c'è notissimo, poi c'è l'allegri, ho molto allegriamento, ho molto allegriamento, ho molto allegriamento, ho molto allegriamento, vedo il culo di Edo con le cose della doccia, e poi vogliamo ricordare dove siamo, dove vi ricordare? Vai, music, volete vedere la gente che c'è fuori? Andiamo a vedere la gente che c'è fuori, ecco questo è un servizio felice, sento ancora più, oddio, questo è tutto l'umanità, questo è un fit, adesso ci mangeranno, le ragazze che ci mangeranno sono lì fuori, non so se vuoi vedere, oddio è scompartito, si 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 scompartito. Ecco le sono l'acqua, si vede, ecco quella è la fine, la gente che ci sta odiando, ma la gente che ci odia, che bello, la gente che ci odia, perché noi siamo fighe, e poi la gente che ci odia un pochettino, perché c'è un casino, ma noi siamo fighe, quindi siamo fighe, e quindi ne portiamo? E' bellissimo E' bellissimo Per noi Che moltissima emozione Ok, se potete vedere No, no, no Nonostante che si impareranno bellissimo Un po' di music troppo Ma volete vedere anche i bagni Sì, le macchine E' già molto stimolante Si vede? Più o meno Il cesto dove abbiamo parlato con la vecchia Ha usato confonderti Ha usato confonderci Ma ci vedi E te gli hai dato della pirla Ci ha dato della pirla Ma cosa vuoi che si? Potremmo inquadrare tutta la gente che sta pensando che siamo delle idioti Esatto Provo quello con la maglietta grigia Ah, ah, si ce l'ho lì Youtube lo so che sei molto felice di vedere questo film Esatto Tutto il mondo E' così Involviamo i coniglietti Vediamo Oh che bello E' felice Con Larsen E' ovviamente c'è me di Jacopo Ma Larsen e Jacopo non è così tipo Gli questi puntaloni Sì 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 però Comunque stiamo stupendo Ok, quindi va bene Oh Quindi, vedi, quanto è buona? Ciao 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 Ciao, vi saluta Ciao Ciao Mi saluta per Youtube Ciao Mi saluta per Youtube Non ci saluta per Youtube Ciao Ecco, vedi noi li conosciamo Eh Vedete Tu vorrei qualcosa Con Roberto Sì In Australia No 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 No